Finalmente è arrivato anche in Italia Amazon Echo Auto, il dispositivo che ci permette di utilizzare l'assistente vocale di Amazon direttamente in auto. In realtà qualcosa di simile è già uscito, Echo Input però è sparito, è ritornato, è sparito, non si sa che cosa è successo a questo dispositivo. Echo Auto quanto costa? Prezzo di lancio 59,99€, un po' tanto devo dire, mi aspettavo di meno. Vediamo all'interno di questa scatola cosa c'è, c'è ovviamente Echo e unboxiamolo insieme per capire com'è questo dispositivo, cosa ci forniscono e se magari effettivamente vale questi soldi leggerò anche i vostri commenti sia di Facebook sia di Instagram e commenteremo il tutto. Sapete io sono un fanatico dell'assistente vocale di Amazon, mi piacciono tanti dei suoi dispositivi ma tanti altri boh, li devo toccare con mano per capire se effettivamente sono dei dispositivi che valgono o se sono così, quasi inutili. Echo Auto è un aggeggio che mi ha sempre incuriosito però non vi nego che mi ha spesso generato dei dubbi. Vediamo se questi 59€ valgono. Dentro abbiamo l'attacco per metterlo sul bocchettone dell'auto, abbiamo questa scatolotta, per fortuna ci forniscono questo adattatore da mettere all'interno dell'accendisigari che ci permette di avere due porte USB. Quindi facciamo finta di voler collegare il telefono o vogliamo utilizzare il navigatore senza che si scarichi, comunque abbiamo un'altra porta. Manuali, istruzioni, ci sono due cavi? Ok, un cavo AUX da collegare direttamente allo stereo dell'automobile e un cavo micro USB o Type-C? No, micro USB. Ma che ti costava un Type-C Amazon? E infine cosa abbiamo? Abbiamo Echo Auto, bello piccolino ma tecnologico. Perché dico questo? Perché guardate quanti microfoni ha. La specialità di questo dispositivo è che oltre ad essere compatto ha un sacco di microfoni. Questo vi permette di avere quindi un assistente vocale che vi sente anche se ci sono i rumori del motore, anche se ci sono delle voci all'interno dell'auto, questo genere di cose. Qui sotto c'è il LED che si illumina, ma io adesso sinceramente non ho voglia di andare in auto per configurarlo, lo configuro qui. Lo colleghiamo alla presa micro USB e vediamo cosa succede, se si accende. Ok, sì, si accende. Ah, ma c'è anche uno speaker. Ah, ce l'ha allora lo speaker. Ah, ok, pensavo fosse tipo Echo Input in miniatura. No, no, c'è lo speaker. Iniziamo. Quando puoi, vai all'App Alexa e aggiungi un nuovo dispositivo. Subito, non ti preoccupare. Allora, andiamo in dispositivi. Facciamo aggiungi dispositivo, Amazon Echo. Vabbè, non configurarlo mentre stai guidando. Ci mancherebbe. Aggancia Echo Auto alla bocchetta da reazione. Vabbè, con questo supporto, ma io voglio provarlo così su due piedi. Continua. Consenti. Echo Auto. Ah, l'ha trovato subito con il Bluetooth. Continua. Il bello di questo dispositivo, a differenza di Echo Input, che lo dovete invece collegare con un router o il tethering, lui invece si collega tramite il Bluetooth. Facciamo a coppia. Ok, errore mio. Dovevo consentire l'accesso. La tua auto può connettersi al Bluetooth. Consenti messaggi e le chiamate per inviare messaggi ad amici con l'assistente vocale e il tuo servizio di telefonia. Ok, perfetto. Quindi possiamo anche chiamare i nostri contatti tramite l'assistente vocale. Insegna la tua voce. Ok, configurato. È stato abbastanza semplice. Lui in pratica si collega tramite il Bluetooth e possiamo fare qualsiasi cosa noi desideriamo. Ad esempio ascoltare la musica, il meteo, fare chiamate e non solo. Lui si connette anche alla rubrica del nostro telefono. Ok, possiamo anche chiamarla in questo modo. Il gioco è fatto. La configurazione, devo dire, è piuttosto semplice. Si collega al Bluetooth del telefonino. Quindi quando l'andrete a interpellare, utilizzerà ovviamente Internet del vostro smartphone. E qui c'è la prima differenza rispetto a tutti gli Echo. Infatti tutti gli Echo, per adesso, cosa avete fatto? Li avete collegati, per esempio, Echo Input, che è andato molto di moda, o Echo Dot, qualsiasi Echo. Cosa avete fatto? L'avete collegato sempre alla presa USB della vostra auto. Però per Internet lo collegavate al router del vostro telefono e poi facevate i vostri magheggi. Ecco, in questo caso, Echo Auto. Non abbiamo di mezzo un router, in quanto la comunicazione, come vi ho detto, avviene tramite Bluetooth. Cosa ne pensi dell'assistente vocale Amazon in auto? Già i miei pareri ve li ho dati con Echo Input. Non sono cambiati tantissimo. Diciamo che sì, vi rende smart l'automobile. Riuscite a fare le chiamate, cosa che molti ancora non hanno ben chiaro. Potete fare le chiamate con questo dispositivo. Si collega al vostro telefono, quindi non preoccupatevi da questo punto di vista. C'è da dire però che alla guida non ci dà un aiuto concreto. Una cosa che possiamo chiedergli è quanto tempo ci vuole per andare in un determinato posto, ma non è che ci aiuta a capire la strada migliore per arrivarci. Ci vorrebbe un Echo con uno schermo e un navigatore. Amazon, sai cosa potresti fare? Fai una collaborazione con TomTom, per esempio. Comprati TomTom, perché capisco, competere con Google Maps è impossibile, perché c'è una community gigantesca lì dietro. Si potrebbe collaborare con un'azienda tipo TomTom, o qualsiasi altra azienda che si occupa di navigatori, e magari si sfrutta quella tecnologia per integrarlo in un dispositivo che può essere, che ne so, Echo Auto Show con lo schermo. In quel caso lì sì che diventerebbe interessante la cosa. Però prima di farvi una recensione voglio provarlo, questo Echo Auto. Ok, il prezzo lo so per alcuni è alto, però ci sta relativamente... No, no, è alto, è alto. Amazon, vogliamo gli sconti, su! Vogliamo gli sconti! Io ho fatto una storia su Instagram e anche su Facebook, e vi leggo i vostri commenti. Partiamo da Instagram. Ovviamente se volete partecipare anche voi seguitemi. Elias cosa scrive? È un po' inutile dato che c'era già Echo Input. In realtà, nì, perché comunque Echo Input prima di tutto non ha uno speaker. Poi hai bisogno di collegarlo a un router o qualcosa. È un po'... Anche se secondo me l'atto software si può anche fare su Echo Input. Giacomo scrive bello, Marco 04 invece scrive inutile. Inutile, vedremo, lo proverò in questi giorni e alla fine vi porterò una recensione. Io invece voglio leggere i commenti nel gruppo di Amazon. Nome dell'assistente, Italia. 25 commenti, troppi! È compatibile con tutte le auto? Scrive Antonio. Relativamente c'è una pagina dove ti dice sì e no, quindi magari valla a consultare. Penso nella pagina prodotto. Celestino dice che l'ha ordinato. Luciano invece mi fa vedere la sua soluzione con Echo Input, ovvero ha messo WebPocket e ha già integrato l'assistente vocale in auto senza Echo Auto. Mastro di casa scrive Ma solo io vedo problemi di sicurezza e se lo rubano praticamente dai un accesso al ladro. Beh, effettivamente no, non è vero. Perché se facciamo finta dovessero rubarvelo dall'auto, Echo dopo non si connette al telefono. Cioè, si può connettere al Bluetooth del ladro, però non essendo lo stesso account il dispositivo non si connetterebbe. Quindi sarebbe un dispositivo impossibile da utilizzare per scoprire informazioni su di voi. Massimo scrive Si può utilizzare come viva voce tramite la radio? Che senso? Nel senso se ti arriva una chiamata sul telefono fa da tramite? Eh, questo non lo so. È da provare. Dietos scrive Decisamente troppo caro per il prodotto che io ho Echo Show 8 in casa, ma questo non lo acquisterò se non rivedono concretamente il prezzo. Sì, su questo forse ti posso dare ragione. Roberto scrive Decisamente una cavolata. Ci puoi ascoltare la radio, ma puoi farlo con quello della macchina. E qui sì, relativamente uno ascolta determinate radio. Ce l'ho anch'io sul fiorino. Quattro tasti, ascolto sempre quelle senza nessun dispositivo. Secondo me, se non si inventano un autoradio con l'assistente vocale, queste cose non hanno ragione di esistere. Beh, è quello che pensavo anch'io, ma voglio provarlo questo dispositivo prima di parlare. Io, infatti, trovo utile magari l'assistente vocale se mi dà anche un aiuto mentre guido. Per esempio, la navigazione. E ovviamente per la navigazione abbiamo bisogno di uno schermo. Niente, questo era l'unboxing e le prime impressioni mie e vostre. Se volete acquistarlo, nel frattempo trovate il link qui sotto in descrizione. Presto vi porterò una recensione. Se avete dubbi, domande, curiosità, fatele qui sotto. Così magari una recensione dopo cercherò di rispondere. Lasciate un bel mi piace. Seguitemi nei vari social network. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti